Graveluto nella musica italiana e morto all'età di 83 anni, Peppino Gagliardi, storico musicista e cantautore napoletano. A darne notizie è stato Gianni Aterrano, musicista e talent scout napoletano. Nato nel quartiere vasto di Napoli il 25 maggio del 1940, Peppino Gagliardi raggiunse successo negli anni 60. Da giovanissimo partecipò a tre edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1965 con il brano Ti credo, di cui era anche autore, in abbinamento con Timmy Euro, poi nel 1966 con Se tu non fossi qui, con Pat Bonn, la canzone verrà poi reincisa anche da Mina, e nel 1968 con Che vale per me, con Earta Kit. Negli anni 70 raggiunse l'apice della sua carriera grazie ai brani Settembre. Gocce di mare, ti amo così, sempre sempre. Benny Anderson, membro storico e fondatore degli ABBA, spiegò di essersi ispirato proprio alla musica di Peppino Gagliardi di fine anni 60 ed inizio anni 70.